Ecco i nostri eroi che si accendono alla discesa dopo il pronto pranzo, come vedete questo primo tratto è un po' più molle dopo il fondo, quindi anche per questo è un po' più faticoso, le tendenze rispetto alla media sono un po' più elevate, però il tratto è relativamente breve, questo forse è tutto un po' più peggiore, ma passata la prima parte in avanti, direi che torna a essere un po' più stagione. Via! Via!